Benvenuti al manicomio di Riene, dove io e il mio collega Roberto abbiamo fatto dirlo 5. Si dice che il manicomio è un luogo pieno di matti, no? E io sono la 1 di nonna. Vediamo un po' che riusciamo a fare, no? Prego, prego, il padratto. Vedete, qua ci sono le rotonde, potete vedere come la 1 aterisce a un buon grip questa Quasi non si sono le rotonde, guardate, 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 guardate. Reggiamo un po' che, guardate. Oh, guardate, guardate. Questa è un po' che stai guardando, guardate. Pagate, guardate, guardate.